Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, precisamente in via Atenisio, all'altezza di via Fratelli Rosselli, per intenderci più o meno nella zona della parrocchia Santa Rita, saranno 700-800 metri di distanza. Voglio sottoporre alla vostra attenzione e più che alla vostra, a quella del comando di polizia municipale, all'assessorato alla viabilità e al sindaco, questa problematica. Qui vedete c'è una strada a doppio senso di marcia, molto ampia e le macchine, le auto purtroppo scorazzano, sfrecciano e purtroppo si sono verificati diversi, numerosi incidenti, persone che sono state investite, sono cadute, appunto perché speronate, per così dire, dalle auto. E allora cosa chiediamo? Chiediamo di sistemare dei dissuasori di velocità, dei rallentatori per intenderci. Spesso si fa un uso e abuso di questi strumenti atti a ridurre la velocità e poi non vengono collocati in quelle zone calde dove invece servirebbero come il pane. Non a caso, dicevo, questa è una zona molto transitata anche a piedi perché le persone del vicinato attraversano la strada per andare al supermercato e quindi si imbattono necessariamente nelle auto che transitano. Ora, soprattutto quando la strada è libera, molti disonesti e mascalzoni, perché così vanno definiti coloro i quali sfrecciano comportando la morte delle persone, non scandalizziamoci, non meravigliamoci se uso certi termini. Perché poi, quando si verificano gli incidenti stradali e quando le persone passano all'altro mondo, allora, come si suol dire, si piange il morto. Invece noi vogliamo prevenire queste disgrazie. Dicevo, la gente, soprattutto le persone anziane, attraversano la strada per andare ad acquistare i beni necessari e qui saltano in aria, signori cari. Soprattutto nelle ore pomeridiane, come a quest'ora, in cui la strada è libera e le macchine corrono a tutta velocità. Allora mettere, che so io, dei dissuasori di velocità, uno magari lì e un altro lì, o almeno uno, un dissuasore, un rallentatore, perché con il rallentatore le auto per forza sarebbero costrette a decelerare e in questo modo le persone potrebbero più tranquillamente attraversare. Ma, ripeto, mi riferisco soprattutto agli anziani, perché il giovane, la persona giovane, ha una maggiore elasticità nei movimenti. Ma immaginate l'anziano che sta lì per lì con la paura di essere travolto. Ecco, vedete, noi chiediamo una scelta intelligente e per questo mi rivolgo all'amministrazione comunale, in particolar modo al comando di polizia municipale, all'ufficio viabilità e traffico, perché si sistemino, si vengano allocati qui dei dissuasori di velocità, perché ricordatelo sempre, prevenire è meglio che curare e non vogliamo piangere un morto sulla strada.